Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Delitto del catamarano, arrestato in Portogallo il latitante de Cristofaro, l'uomo fu condannato all'ergassolo per l'omicidio della fanese Anna Rita Curina Nuovo ospedale, la Lega Nord dà il via a una raccolta firme in tutta la provincia, Ceriscioli può essere fermato solo dai consiglieri di maggioranza Tutto pronto per l'apertura di Fano Geo, sabato il taglio del nastro al Codma di Rosciano Due allenatori fanesi campioni di taglia nel volley, a Lorenzetti e Mazzanti il premio del comune Fano chiude al traffico le strade regalando a centinaia di bambini la città da giocare Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale E' stato catturato per la terza volta Filippo de Cristofaro, l'uomo che nel 1988 uccise a colpi di macete una giovane donna fanese perché voleva appropriarsi del suo catamarano Un altro latitante in meno, non si sfugge alla giustizia e chi sbaglia deve pagare Così il ministro dell'interno Angelino Alfano, sull'arresto di Filippo Antonio de Cristofaro L'ex insegnante di danza, condannato all'ergassolo per l'omicidio della skipper fanese Anna Rita Curina L'uomo, 62 anni, all'epoca voleva impadronirsi del catamarano della donna mentre era in viaggio verso le Baleari insieme ad altri due olandesi Anna Rita, 34enne, era stata uccisa subito dopo la partenza da Pesaro il 10 giugno e il 28 dello stesso mese Un'imbarcazione aveva ripescato al largo di Senigallia il cadavere straziato della donna Avvolto in una coperta e zavorrato da un'ancora ancora legata alle caviglie La scoperta del corpo ha dato il via alle indagini Dopo la condanna definitiva, De Cristofaro è stato arrestato per la seconda volta nel 2007 Dopo una fuga dal carcere A luglio, durante un permesso premio, è evaso dal carcere di Opera a Milano Ma è stato catturato il mese successivo in Olanda A novembre, poi è stato rinchiuso nel carcere romano di Re Bibbia Infine trasferito a Porto Azzurro, sull'isola d'Elba Dal quale è evaso ad aprile 2014, sempre durante un permesso premio Il quarto nel giro di pochi mesi L'ennesima fuga ha scatenato un fiume di polemiche sui permessi facili E l'indignazione dei parenti della vittima Il terzo arresto, l'ultimo, quello di ieri pomeriggio a Sintra Un villaggio a 30 km da Lisbona Filippo era appena salito su un treno diretto alla capitale portoghese Lì è stato raggiunto anche dagli agenti della squadra mobile di Ancona Il killer del catamarano è apparso sorpreso dal controllo degli agenti Ma dopo un tentativo di negare la sua vera identità Si è sciolto in una risata liberatoria, o più probabilmente nervosa Poi si è complimentato con i poliziotti Quando è stato fermato, De Cristoforo aveva con sé quasi 6.000 euro in contanti Un passaporto, una carta d'identità e una patente nautica Tutti falsi e intestati al nome di Andrea Bertone Il 62enne è stato trasferito dalla sede della polizia portoghese al Tribunale di Lisbona Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità e sostegni nella latitanza Anche la Lega Nord si mobilita contro l'ospedale Unico Il carroccio dà il via ad una raccolta firme Per invitare i consiglieri regionali di maggioranza Quelli che sono stati eletti nella provincia di Pesaro e Urbino A fermare il presidente Ceriscioli Allora, una raccolta firme per chiedere a chi è stato eletto in regione Di perorare le cause del territorio Sì esatto Noi abbiamo 5 rappresentanti eletti in questa provincia di maggioranza E quindi in grado di decidere, di essere determinanti Chiederemo a questi signori che sono eletti non dai loro partiti Ma dal popolo della provincia Di opporsi a quello che è l'attuale progetto di ridimensionamento Chiusura di molti ospedali dell'interno e anche del Santa Croce di Fano Quindi faremo questa raccolta firme che è una lettera aperta Che chiederemo al maggior numero possibile di cittadini della provincia di Pesaro Di sottoscrivere Che è un invito, una vera moral suasion Ai signori Minardi, Rappa, Talè, Traversini e Biancani A dire, ad ascoltare le popolazioni e a dire al loro presidente Caro Ceriscioli, se tu non modifichi questo piano e salvi in modo rivisitato Ma salvi il Santa Croce, alcuni ospedali dentro terra In modo chiaro ed evidente Noi quando verrà il provvedimento in aula ti voteremo contro Ovvero se le opposizioni presenteranno una mozione di sfiducia Noi ti votiamo contro e vai a casa Lo faranno? Non lo so Io ho qualche dubbio Però sono anche convinto che alla fine il buon senso e la buona fede Possano prevalere sull'interesse di partito Noi dobbiamo convincere la Regione Tramite questi cinque signori che hanno il potere di farlo Ecco perché noi non abbiamo aderito alla raccolta firme Perché è una raccolta firme lodevole, bellissima Che però alla fine non conclude niente Questa è l'unica cosa che si può fare Il presunto referendum fanese Secondo me è una petizione ma non ha valenza Perché il referendum si può chiedere solo su questioni di esclusiva competenza del Comune di Fano Anche i banchi sanno che la sanità non è di competenza dei comuni ma della Regione Quindi anche tu facessi il referendum a Fano Lo vinci con il 100% dei voti Poi lo porti in Regione Dal punto di vista giuridico la Regione dice bravi complimenti Però a me non me ne frega niente Vado avanti per la mia strada Contratto subito Questo è il grido che oggi ha comunato centinaia di manifestanti Che nell'ambito dello sciopero nazionale dei lavoratori pubblici e della scuola Si sono riuniti in piazza del plebiscito ad Ancuna Per esprimere la loro protesta con comizie e flash mob Lo sciopero promosso dai sindacati È interessato nelle marche circa 80.000 lavoratori Di cui 26.000 quelli della scuola Tutti insomma da 7 anni chiedono il rinnovo del contratto di lavoro In piazza anche i vigili del fuoco E per la prima volta il corpo forestale dello Stato Che polemizza col governo contro la militarizzazione dei suoi dipendenti E dopo i parcheggi rose è stata inaugurata alla Mimo Un'area, uno spazio dedicato alle mamme per poter accudire i bambini In una città a misura di bambino c'è la necessità Che le mamme e quindi i bambini godano di spazi a loro dedicati Un passaggio importante soprattutto per i bambini Nei primi anni di età è appunto l'allattamento e il cambio del pannolino Per questo la città di Fano ha ripreso un progetto nato da qui E con la collaborazione di una grande azienda a livello mondiale Lo ha messo in atto Perché questo baby pit stop? Che cos'è e cosa serve? Allora il baby pit stop diciamolo subito in modo semplice È un'area di sosta per allattare e cambiare il pannolino dei bambini Quindi voi vedete che c'è qua una poltrona e un fasciatoio dotato di quello che può servire Per il cambio del pannolone tranne il pannolino o pannolone che porta la mamma E permette, perché abbiamo deciso di fare questo progetto proposto da Unicef Era stato sì, come è stato detto prima, attivato nel 2004 Un percorso però solo con i commercianti che poi dopo un periodo però si è chiuso Noi abbiamo deciso invece di ripristinarlo ma in maniera molto più diffusa E utilizzando anche i servizi e i luoghi pubblici spesso frequentati dalle mamme con bambini Perché i bambini, perché possano cominciare da subito a vivere e godere della propria città Ha bisogno che le mamme possano essere nelle condizioni di farlo Allora, insomma il solido ce lo mette l'IKEA L'idea è dell'Unicef ma il solido ce lo mettete voi Sì, è una collaborazione nazionale che ha preso forma l'anno scorso, un anno e mezzo fa E che troverà in realtà la sua risoluzione in oltre 100 città italiane Per cui questo è solo un punto molto partecipato e ringrazio anche tutta la comunità di Fano Però in realtà appunto, come dicevo, il progetto è nazionale molto più grande, molto più vasto Ok, grazie E parliamo sempre di bambini perché domenica torna la città da giocare nella zona del Pincio ma anche in Viale Gramsci Le strade quindi saranno chiuse al traffico per regalare ai più piccoli decine di attività e di laboratori ludico-educativi Domenica una città tutta dedicata, perlomeno il centro, ai bambini Qual è il programma e soprattutto lo scopo di questa iniziativa? Sì, è un programma molto ricco, ancora più ricco rispetto allo scorso anno che fu già un grande successo Questo mi fa molto piacere perché significa che la città è contaminata e raccoglie il senso di questa iniziativa Occupiamo per liberare degli spazi per i bambini ma per i cittadini C'è per esempio la presentazione del progetto quartiere a misura di bambini, il quartiere di Sant'Orso Fatto dai bambini che noi presenteremo in uno stand ma poi il primo giugno verrà presentato nel quartiere di Sant'Orso Lo scorso anno venne progettato l'albero, quest'anno abbiamo un gioco progettato da Giambetti Pelino che in qualche modo attraverso il gioco scopriamo e conosciamo la nostra città Ci sono iniziative anche di altre associazioni come il Paese dei Ballocchi che nel coesione della giornata mondiale del gioco Il 28 presenteranno i vecchi mestieri, i vecchi giochi nell'area dei passeggi perché anche i passeggi riavranno un nuovo vivacità Un nuovo splendore, così mi piace definirlo Mi piace ottenere un aspetto, due giorni fa Euroa Roma ad un convegno internazionale Dovano presenti amministratori, esperti di tutta Europa e non solo Si parlava di città intelligenti, di città sostenibili Io ho portato l'esperienza e l'idea e la progettualità del laboratorio Fanno Città dei Bambini Devo dire che è stato in un intervento più gradito E questo dimostra la potenzialità e il ruolo che Fanno sta recuperando anche a livello internazionale Ed è tutto pronto al Codma di Rosciano per Fanno Geo Per oggi in attesa del taglio del nastro è venuto a Fanno il giornalista ma anche agricoltore Piero Riccardi per presentare il suo ultimo libro È giornalista e collaboratore di una delle trasmissioni RAI d'inchiesta più famose Report di RAI3 Ma è anche un produttore di vini biologici È di Roma ed è qui per presentare il suo ultimo libro Piero Riccardi che parla del cibo e del rapporto della società moderna con questo alimento così importante Riprendiamoci il cibo, questo è il titolo del suo ultimo lavoro Di che cosa tratta Riprendiamoci il cibo? Tratta del cibo Però l'ho scritto in questo triplice ruolo Come consigliere di una BCC locale del Lazio Come produttore di vino E come giornalista di report Per il quale programma ho seguito molte inchieste sull'agricoltura Riprendiamoci il cibo perché in questo momento il cibo Secondo me è sotto pressione Da una parte sicuramente l'aumento della popolazione Crea questa ansia che il cibo debba mancare In effetti ne produciamo tantissimo Sappiamo benissimo che ne sprechiamo tantissimo Basti pensare che qui al PIL della Svizzera Lo spreco di cibo mondiale Quindi parliamo di cifre mostruose Ne produciamo tanto Spesso anche a basso ormai con molta facilità Consumando meno terra Ma aumentando molto il consumo di acqua Il degrado della terra Il consumo di petrolio Per cui spesso consumiamo più energia Di quanta ne riusciamo a ricavare Quindi il problema non è tanto che manca il cibo È che c'è una quantità enorme di cibo Che spesso è di bassa qualità Ecco sul cibo c'è una grossa pressione Riprendiamoci il cibo perché dobbiamo riflettere Sprecare il cibo è una cattiva educazione O è una cattiva cultura? È una cattiva cultura È anche un'educazione perché spesso poi da bambini Sprechiamo il cibo Io vengo da una generazione Lo racconto nel libro Io sono nato nel 1954 Negli anni Quindi uscivamo dopo la guerra E c'era il boom Però esisteva ancora nelle famiglie Un rispetto per il cibo Non si sprecava Un pezzettino di pane non si sprecava Perché il pane era pane Cioè si veniva fuori Adesso ne sprechiamo tonnellate E sembra che stiamo Sprecando il niente Perché tanto ce n'è questi scaffali che sono sempre pieni Di cibo che si rinnova Mangiamo molto di più di quello che c'è necessario per sopravvivere Anche quello è uno spreco Se noi siamo C'è un miliardo di obesi nel mondo E quello è uno spreco E sono cominciati questa mattina la spiaggia dell'Arzilla I giochi del gemellaggio 2016 Giovedì sera infatti sono arrivati a Fano Circa 160 tedeschi Provenienti dai comuni della provincia di Rassat Gemellati con quelli della provincia di Pesaro e Rubino Le nove squadre partecipanti Formate da 20 componenti In parte italiani e in parte tedeschi Quindi squadre miss Si sono sfidate in tornei di beach volley Beach tennis Tiro con l'arco Bocce su sabbia e basket Domani sera invece La delegazione tedesca è attesa San Costanzo Per il gioco del biliardino umano Mentre la sera si terrà la cerimonia conclusiva a Fano Con le premiazioni di questi giochi dei gemellaggi Sono stati accolti e premiati al Teatro della Fortuna di Fano Invece i due allenatori fanesi Campioni di Italia nella pallavolo maschile e femminile Due squadre di volley Una maschile ed una femminile Che vincono i loro rispettivi campionati nel 2016 E due allenatori che raccolgono i giusti allori Fin qui nulla di strano Se non fosse che i due allenatori sono tutte due fanesi Non capita spesso che due coach della stessa città Diventino campioni d'Italia nello stesso anno e nella stessa disciplina E' successo a Fano con Angelo Lorenzetti e Davide Mazzanti Con le squadre di Modena e Conegliano Una straordinaria coincidenza per un grande risultato Che Fano e l'amministrazione comunale Hanno voluto celebrare assieme ai due allenatori Al Teatro della Fortuna in serata In una sala verdi gremita di appassionati e sportivi Ai due tecnici vittoriosi abbiamo chiesto loro le impressioni E le sensazioni per questo grande risultato Sicuramente è stato uno scudetto faticoso Perché sulla mia squadra c'erano tante aspettative E devo dire che vivere quest'anno da favoriti E' stato molto più faticoso rispetto a quelli precedenti Però è stata una soddisfazione immensa Perché secondo me in questa stagione sono cresciuto tantissimo Gestendo queste tensioni E poi culminare la stagione con questa vittoria E' stato un premio importante Mi piacerebbe dedicarlo un po' a tutti quelli Che hanno partecipato a questo percorso E parlo soprattutto delle persone con cui ho iniziato qui E ce ne sono veramente tante E non faccio i nomi perché altrimenti escluderei qualcuno Però tutte le persone con cui ho iniziato a fare pallavolo qui A Fano Una felicità immensa E una gratitudine verso la fitta Che mi ha messo vicino a un ambiente A dei ragazzi spettacolari Che mi hanno consentito di alzare le braccia al cielo E un bacio verso che so io Anche quest'anno a Bellocchi di Fano Si svolgerà la seconda marcia podistica amatoriale per l'handicap L'iniziativa che si terrà domenica dalle ore 10 E' denominata Camminando con Don Orione Prevede un percorso di circa 3 km Con partenza e arrivo a Casa Serena Il ricavato dell'evento che conta già 330 iscritti Sarà devoluto appunto alla residenza per disabili E sempre domenica ma alla spiaggia Arzilla Si svolgerà il Fano Beach Festival Un evento che promuove lo sport e la sicurezza della persona Dalle 9 alle ore 18 La Società Nazionale di Salvamento Allestirà delle aree dedicate alle esibizioni di salvataggio in mare E simulazioni di soccorso a terra Con l'impiego di tavole sup Cioè il surf in piedi E l'impiego di cani da salvataggio Ci saranno anche dei corsi gratuiti di formazione I partecipanti potranno apprendere le tecniche manuali Per disostruire una persona in caso di soffocamento da oggetti o alimenti Ma anche gestire un'emergenza Conoscere gli elementi del primo soccorso E tutti i maggiori rischi in età pediatrica E quelli legati alla bagnazione Questo fine settimana torna anche a Republic Il festival che per la sua quarta edizione si sposta in riva al mare Quest'anno il festival è giunto alla quarta edizione Ci sono delle novità? Sì, il festival Republic quest'anno sarà di in sei ore Ovvero a Fosso sei ore Che è una collaborazione tra il Bagnacciuga I bagni Elsa E quest'anno all'interno ci siamo inseriti noi di Republic In collaborazione con l'associazione periferica di Pesaro Sarà il 22 maggio, quindi domenica E in una sola giornata Quindi si parte dal pomeriggio Dalle 16 del pomeriggio Fino a serata, fino a mezzanotte circa Quale sarà il programma? Non mancheranno i concerti? Sì, ovviamente sì I concerti inizieranno dalle 17 in lo specifico E per la prima volta come novità del Festival Republic Avremo dei gruppi internazionali Gruppi internazionali come Headliner, Amy Paws dalla Scozia I Terry Maltz dalla California E mentre invece per tornare alla scena italiana Avremo gli Albedo, milanesi, vincitori del premio della critica al Festival Buscaglione di Torino E il Sunday Morning di Cesena In apertura dal norte di Pesaro Ci sono anche delle iniziative collaterali? Sì, come tutti i Festival Republic portiamo dei contenuti che fan parte della mentalità Republic dell'associazione Quindi ci sarà il mercatino del riuso e del baratto Ci saranno makers e espositori Ci sarà un Alleycat che con partenza da Pesaro e Fano Andrà a confluire Quindi una corsa ciclistica urbana poco seria A tappe nei luoghi da ripensare Quindi le iniziative sono tante Avremo anche la ludoteca dove si possono provare giochi in scatola nuovi e vecchi E oggi ad Ancona si è svolto l'Ottaviani Day Un meeting sportivo organizzato per festeggiare i 100 anni di Giuseppe Ottaviani Il pluriplimatista mondiale di atletica leggera Master nato a Sant'Ippolito il 20 maggio 1916 Il super atleta che dopo i 75 anni ha vinto una cinquantina di titoli italiani 10 ori mondiali Nei mesi scorsi ha conquistato anche l'Ariston durante il Festival di Sanremo Promuovendo lo sport a tutte le età Compleanno ultracentenario invece a Famiglia Nova Dove Iole Rosati ha festeggiato ben 102 anni Alla presenza del figlio Marcello Diotallevi E dell'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi Classe 1914 Iole è nata in Canada E si è trasferita a Fano all'età di 8 anni Ha avuto un unico figlio Sognava che facesse il dottore per prendersi cura di lei Ma Marcello è diventato un artista Dandole in ogni caso innumerevoli soddisfazioni La signora è appassionata del buon cibo e del bel canto Risiede a Famiglia Nova Fano dal 91 Ad oggi quindi non solo è la residente più anziana Ma anche quella che risiede da più tempo nella struttura L'assessore le ha donato una medaglietta con simbolo Della città della fortuna che Iole sfoggia con grande orgoglio Grazie a Iole Tanti auguri a te Davvero allora tantissimi auguri da parte di tutto lo staff di Fano TV Per l'informazione è tutto Ma prima di salutarci vi annuncio che in occasione della programmazione estiva Il sabato non andrà in onda il TG Flash di Occhio alla Notizia Ma sette per occhio con alcuni servizi che abbiamo trasmesso durante la settimana Grazie per la vostra attenzione Dunque il TG torna puntuale lunedì sera alle ore 20 e 30 Arrivederci Grazie a tutti